Il Milan conferma Stefano Pioli dopo averlo delegittimato a mezzo stampa, l'ennesimo fallimento di questa dirigenza, l'ennesimo disastro di questa dirigenza che ha ormai ampiamente dimostrato di non essere all'altezza del Milan e di non essere all'altezza del compito che le è stato affidato. Un disastro su tutta la linea. Io è da mesi che ovviamente me la prendo con Pioli ma è da mesi che dico anche che la colpa non è più solo di Pioli, anzi la colpa è di chi non lo caccia, la colpa è di chi lo tiene lì perché Stefano Pioli ha ormai fatto tutto quello che era possibile fare per farsi cacciare. Che cosa deve fare di più Stefano Pioli? 30 infortuni muscolari fuori dalla Champions, fuori dalla corsa Scudetto, fuori da tutto. Che deve fare ancora Stefano Pioli? La colpa è di chi non lo caccia e la colpa anzi è di chi non lo sostiene. La colpa è di chi lo tiene senza sostenerlo. Perché io avrei preferito vedere Furlani di fronte alle telecamere a dire Stefano Pioli è il nostro allenatore, lo sosteniamo, abbiamo fiducia in lui, vogliamo continuare con lui fino a fine stagione e vogliamo uscire insieme a lui da questa situazione. Perché siamo una squadra, siamo una cosa sola, dobbiamo uscirne insieme. Io pur non essendo minimamente d'accordo con questa cosa avrei preferito una cosa del genere. Che perlomeno avrebbe dimostrato unità di intenti. Invece questi non solo confermano Pioli ma lo delegittimano addirittura a mezzo stampa facendo passare il messaggio che sono incazzati per gli infortuni, incazzati per i risultati, incazzati per tutto. No, incazzati per tutto e addirittura fanno sapere che sono ore di riflessione. Cioè ragazzi quando tu fai, quando tu dici sono ore di riflessione, parlando di un allenatore, della posizione di un allenatore, vuol dire che tu quell'allenatore lo hai cacciato già. Vuol dire che tu quell'allenatore lo hai già delegittimato, vuol dire che tu non hai più fiducia in quell'allenatore. Cioè loro hanno fatto passare sto messaggio qua per poi confermarlo. Cioè quindi lo hanno tenuto senza avere la benché minima fiducia in lui, dichiarandolo oltretutto all'universo mondo. Cioè hanno fatto la cosa peggiore in assoluto che si potesse fare. Ragazzi, ripeto, siamo ormai alla certificazione totale. Siamo in mano a gente completamente inadeguata. Questi non possono fare sto mestiere. Questi non possono fare i dirigenti del Milan. E non basta il mercato fatto con uno scouting di buonissimo livello. Perché i giocatori arrivati sono di buonissimo livello. Ma non basta quello per fare una buona dirigenza. Perché la dirigenza non fa solo il mercato. La dirigenza deve anche affrontare una stagione. Ed io è per quello che in estate non mi sono raccodato alla sfilza di Cardinale Out, Furlani Out, eccetera, eccetera. Non perché fossi un Cardinale Fag o un Furlani Fag. Non me ne è mai fottuto un cazzo. Anzi, li ho sempre criticati per la questione Turam e tante altre cose. Io ho semplicemente detto, li voglio vedere all'opera. Li voglio vedere all'opera e poi li giudicherò. Ho sempre detto questo in estate. Li ho visti all'opera, li ho giudicati. Bene, perfetto, basta, basta. A fine anno bisogna fare quello che è stato fatto l'estate scorsa con Maldini. Una bella colazione, arrivederci e grazie. Oppure rimettiamoli nei loro ruoli. Mettiamo Furlani ad occuparsi dei conti e della gestione non sportiva. Rimettiamo Moncada ad occuparsi dello scouting e tutto. Ma mettiamo dirigenti e gente all'altezza del compito. Perché questi qui non possono fare sto mestiere. A me dispiace, ma non sono proprio all'altezza del compito. Non sono minimamente in grado di gestire una stagione. E non metto in mezzo Ibra, perché Ibra, ragazzi, uno, non ho ancora capito che cazzo faccia all'interno del Milan. Cioè, e due, è arrivato da tipo tre giorni. È arrivato da tre giorni. Oltretutto un neofita non ha mai fatto sto mestiere. Quindi che devo fare? Me la prendo con Ibra? Cioè, lì l'errore è anche lì alla base. Cioè, tu hai una dirigenza di neofiti completi e totali, che non si sono mai occupati di ste robe qua. E affianchi, per risolvere la situazione, un altro neofita. Cioè, un altro che non ha mai fatto sto mestiere. E torniamo sempre a quel punto. Cioè, al punto del... Il Milan deve sempre sperimentare. Il Milan deve sempre trovare la particella di Dio in tutto quello che fa. Con l'allenatore che vuole il calcio fluido e quindi fa un mercato chiedendo solo mezze ali, eccetera, eccetera. Perché il centrocampo deve essere fluido. Il pressing offensivo. Il gioco rivoluzionario europeo. In dirigenza, no, in dirigenza, rivoluzioniamo il modo di intendere il management sportivo in Italia. Mettiamo Furlani che non l'ha mai fatto. Mettiamo Moncada che non l'ha mai fatto. E per risolvere mettiamo Ibra che non l'ha mai fatto. Se noi siamo il Milan, siamo il Milan, siamo una delle società più importanti del calcio mondiale e dobbiamo sempre sperimentare. Cioè, dobbiamo sempre mettere il Milan in mano a gente che non ha mai fatto sto mestiere qua. Cioè, ripeto, stiamo in una situazione tragica. Ed io, dopo quello che è successo, nonostante tutti gli infortuni muscolari, nonostante tutto quello che è successo, cioè io non ho più neanche la forza per prendermela con Pioli ormai. Ma che gli dobbiamo... Cioè, i ragazzi lo hanno proprio smerdato a mezzo stampa e poi lo tengono là. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, io non... Cioè, ripeto, stiamo in mano. Stiamo in mano veramente a gente che non può far suo mestiere. Cioè, a me dispiace. A me dispiace perché ad un certo punto ci ho anche creduto. Il mercato, secondo me, a differenza c'è di quello che pensano in tanti, non è stato fatto neanche male. Per carità, non ho dato un 9, ho dato tipo, pare, 7 o 7 e mezzo, una cosa del genere. Però... Però non basta, ripeto, non basta questo. Cioè, non basta questo per fare il Milan, non basta questo per creare una stagione all'altezza, non basta questo per essere dei dirigenti all'altezza. Mi dispiace. E questo non lo sono. Non lo sono e noi ci approcciamo a Milan-Sassuolo con cosa? Con un allenatore completamente, proprio, che non ha più la fiducia di nessuno, completamente delegittimato da tutti, sfiduciato da tutti, con ovviamente 7400 infortuni perché anche Tomori ha avuto l'ennesimo infortunio grave e poi passiamo a quello che è il vero motivo, c'è il vero motivo per cui ovviamente l'hanno confermato alla fine. Perché non c'è un sostituto, perché non c'è nessuno che si viene ad infilare in questo macello al momento, perché purtroppo questo è quale allenatore di un certo spessore prende in corsa un Milan che ha mezza squadra infortunata e mezza squadra che deve essere recuperata. Nessuno. Non viene il Conte a stagione in corsa. A stagione in corsa ovviamente arriva l'abate di turno che prendi dalla primavera, arriva il Donadoni che è l'ultima esperienza che ha fatto in Cina, a me andrebbero anche bene, cioè guardate che cosa arriva a dire, a me andrebbero anche bene, però ovviamente hanno il dubbio e dicono, aspetta, però effettivamente a mettere abate non mi fido, non mi fido. E allora perché hai delegittimato Pioli? Perché avete delegittimato Pioli allora? Difendetelo allora. Cioè se non avete alternative, cioè santo cielo, difendetelo almeno a mezzo stampa. Cioè almeno difendete le vostre scelte. Avviate il coraggio perlomeno di metterci la faccia e difendere le scelte che avete fatto. Considerato che in estate avete smontato un management sportivo che tutto sommato funzionava e avete mandato via i Maldini per fare la rivoluzione. Cioè almeno abbiate il coraggio di difendere la rivoluzione che voi stessi avete voluto fare. Invece no, neanche quello. Neanche quello. Neanche quello, ragazzi. Che dire? Questa è la situazione. Bella, rosea, fantastica. Verrebbe da dire. Detto ciò, io... Vi auguro un buon Natale. Sarà un Natale fantastico per noi tifosi del Milan. Infatti meglio diciamo fermarci qui e non parlarne. Io oggi farò un video dedicato agli abbonati per discutere insieme a loro di alcune cose con voi, ragazzi. Ci vediamo nei prossimi giorni. Non domani perché domani, essendo Natale, non pubblicherò nulla. Dal 26 ricomincerò, diciamo, l'attività su questo canale. Mi prendo un giorno così di stacco. Ragazzi, un salutone. Buon Natale a tutti. E sempre Forza Milan, nonostante tutto.